Buonasera a tutti amici interisti, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo super nuovo video Inter batte Torino 1-0 in casa loro Ultima di campionato, non poteva che andare nel migliore dei modi Nessun infortunio, nessun infortunio Era l'unica cosa che davvero mi auguravo In vista di quel sogno, di quella partita Chiamata finale di Champions League del 10 giugno, sabato prossimo Questo era l'importante Era importante mantenere il ritmo Abbiamo giocato una buona partita Un risultato un po' bugiardo perché probabilmente entrambe le squadre avrebbero meritato di fare qualche gol in più Però penso che alla fine dei conti abbiamo meritato la vittoria Perché siamo una squadra più forte Abbiamo dimostrato cinismo, abbiamo concretizzato Forse anche poco, ma anche il Torino effettivamente ha creato Io ragazzi, ora vi racconto la partita L'Inter si schiede in campo con il solito 3-5-2 Con Andarovic in porta, Darbiana, De Vrij e Bastoni In difesa, Dunfris, Gagliardini Brozovic, Ciananoglu, Gosens e Lukaku Lautaro in attacco Quindi un turno aver ragionato Quattro undicesimi riposano Che poi entrano però a gara in corso Quindi Inzaghi ha cercato di far giocare un po' tutti Di dare minutaggio un po' a tutti Senza far perdere quindi il ritmo a nessuno Ritmo partita importantissimo Perché non puoi stare due settimane Senza giocare una partita vera E poi presentarti in finale Champions League Contro il Manchester City Che peraltro ha vinto l'FA Cup Questo pomeriggio contro il Manchester United Per 2-1 Ma io prima di raccontarvi la partita Vi chiedo ragazzi di iscrivervi al canale Siamo arrivati finalmente a 200 iscritti Come desideravo prima della finale di Champions Ma possiamo Potete fare un altro piccolo sforzo sicuramente Cerchiamo di arrivare a 2.50 Quanto più in fretta possibile Perché è importante Sono un piccolo canale Ho bisogno del vostro aiuto per crescere E lasciare un like Iscrizione al canale È gratuito È gratuito Quindi non vi costa assolutamente nulla L'Inter parte molto bene Con al sesto minuto Un pallonetto alto Di Lautaro Martinez Servito divinamente da Lukaku Già prime Fasi di Lula All'inizio gara Al tredicesimo C'è il primo tiro del Torino Il primo squillo Con Ricci Che è da fuori di destro Un bel tiro Però si finisce la palla Un metro fuori dalla porta Al ventiduesimo Un altro tiro dell'Inter Con Dumfries Su calcio d'angolo Deviato Da Riccardo Rodriguez Per poco Non fa autogol Para Milinkovic Poi abbiamo un altro tiro Del Torino Quindi un'azione da una parte E dall'altra Tiro di Singo Di sinistro Centrale Para Andanovic Poi c'è al tredicesimo Una grandissima azione In solitaria Di Lukaku Che fa fuori Buongiorno Che è effettivamente Un buon giocatore Non lo conoscevo così bene Ha giocato molto bene Buongiorno oggi Ha tenuto molto bene Lukaku Tranne in due o tre occasioni In una di queste Azione pericolosissima Appunto Di Lukaku In solitaria Poi tiro deviato In angolo Sul seguente calcio d'angolo C'è De Vrij Che è schiaccio di testa Quasi indisturbato E purtroppo Non riesce a colpire Benissimo La palla è centrale E il portiere Para Poi abbiamo Al trentasettesimo E il minuto Chiave della partita Perché c'è un tiro Sempre di Singo Di testa Su calcio d'angolo Del Torino Azione Dall'altra parte Lukaku Serve Brozovic A limite dell'area Che tentenna col destro Si girava sul sinistro Scaglia un tiro Non impeccabile Forte Abbastanza preciso Però Secondo me C'è la complicità Di Milinkovic Savic Che non riesce a parare L'Inter Si porta in vantaggio 1-0 Nel fine del primo tempo E finisce così Andiamo al secondo tempo C'è un tiro di Cialanoglu Da fuori aria E pare a Milinkovic Savic Al cinquantatresimo Poi i primi cambi Dell'Inter Entrano Diego e Barella Per Lautaro Molto stanco Obiettivamente E per Cialanoglu Che era stato anche ammonito Al cinquantasesimo C'è la prima azione Di Dzeko Con un bel tiro di sinistro Che va all'atto Veramente di pochissimo Sarebbe stato un gran gol Poi c'è una punizione Al cinquantanomesimo Nuovamente l'Inter In avanti Punizione di Brozovic Morbida Sul secondo palo Per Gagliardini Sfortunatissimo L'innominabile Non riesce a segnare Nemmeno l'ultima di campionato Una palla Un cioccolatino Dato da Brozovic La palla Va fuori di così E poi Entrano anche I primi cambi del Torino Al sessantesimo C'è una grandissima Grandissima Parata Salva risultato Di Andanovic Su Caramo Ex Inter Entrano al sessantacinquesima Cerbi e Kordaz Per Bassoni Andanovic Altri cambi Per far rifiatare Per dare spazio Un po' a tutti Anche Kordaz Il terzo portiere Che addirittura Fa al Settantunesimo Un'incredibile Parata Sussanabile Una parata Meravigliosa Addirittura anche Onana in panchina Si mette le mani nei capelli Gridando Che parata ha fatto Davvero Un ottimo terzo portiere Si è dimostrato In questa occasione Kordaz Al Settantacuatesimo Entra anche Benanova Per Gosens Stremato E poi abbiamo Questa Questa fascia Di secondo tempo Dal Settantacinquesimo All'ottantesimo Ottantacinquesimo Dove Questi 15-20 minuti Facciamo un po' fatica Non riusciamo a tenere Palloni al centrocampo Il Torino Pressa molto alto Riesce a creare Tante occasioni da gol Ma Bravissima La difesa dell'Inter In particolar modo Ragazzi De Vrij De Vrij fa una Una prova Secondo me Impeccabile Magistrale Non ha sbagliato Davvero nulla Nulla De Vrij Mi è piaciuto davvero tanto E ha impedito più volte Il gol Del Torino Che probabilmente L'avrebbe anche meritato Così come L'avremmo meritato Anche noi Perché ripeto Più volte Siamo andati vicini al gol Addirittura Anche poi All'ottantesimo Contropiede bellissimo Dell'Inter Dzeko Lukaku Ridà palla a Dzeko Dzeko scagli un tiro In maniera quasi perfetta Quasi Perché la palla Colpisce il palo esterno Ed esce fuori Quindi altra grande occasione Dell'Inter Palo clamoroso Di Dzeko Al novantaduesimo Forse l'azione Più pericolosa E più nitida Del Torino Che forse Forse poteva Meritare il pareggio Anche se l'Inter Davvero ha sfrecato Tante occasioni Che sanabile Si mangia un gol A porta praticamente vuota O quasi C'era solo Cordaz Se l'avesse colpita Un po' meglio Probabilmente Cordaz Non avrebbe avuto Modo di intervenire La palla esce Disperazione di Juric Poi al novantaduesimo Anche un'altra azione Dell'Inter Barella per Lukaku Lukaku dal limite Si gira di sinistro E la palla Esce di tanto così Ragazzi Io sono felicissimo La partita È andata Come doveva andare Abbiamo vinto Tre punti Non dico fondamentali Perché non sono fondamentali Eramo già qualificati In Champions Sicuramente Decretano che cosa Che siamo Più avanti Al 100% Rispetto al Milan In In campionato Quindi finiamo davanti al Milan In campionato Con assoluta certezza Vedremo Se finiremo anche davanti Alla Lazio Me lo auguro A questo punto E qualche soldino In più Che entra nelle casse Chiaramente Dell'Inter Come terzo posto Rispetto al quarto E quindi Questo può solo far bene Può solo far bene Alle casse del club È un club In difficoltà economica Che però Tra lo sponsor di Maglia Che ieri è riuscito A racimolare 4 milioni e mezzo Per questa Ultima partita di campionato Ma soprattutto Chiaramente anche per la finale E soprattutto Per la finale Di Champions League Dalla Paround Plus Piattaforma streaming Conosciutissima E quindi Altri soldi Che entro nelle casse Dell'Inter Speriamo bene Ragazzi Ora Si chiude il campionato Non sappiamo ancora Se secondi Se terzi Lo scopriremo Entrano domani Ma La cosa più importante Aver vinto Aver dato minutaggio A tutti Ma nessun infortunio Ragazzi Questo era quello Che davvero mi premeva Io che dirvi Ci vediamo domani Con il super Pagellone Non perdetevelo Perché ce ne saranno Delle belle E niente ragazzi Io vi auguro Un buon sabato sera Ci vediamo domani Per il pagellone Sempre a tutte le cucche Che anche oggi Ci hanno sperato Fino all'ultimo Ma l'hanno presa In quel posto E questa è la differenza Tra Questa partita Fa vedere proprio La differenza Tra inizio campionato E anche la parte centrale Subito dopo il mondiale E questo finale Cosa cambia? Cambia che l'Inter Soffre sicuramente Come nelle altre partite Creiamo tante occasioni Nelle altre Non segnavamo Qua invece Probabilmente Abbiamo fatto anche Qualcosina in meno Di quello che Avremmo potuto Ma Abbiamo fatto gol E al contrario L'altra squadra Crea tante occasioni Ma non riesce A metterla dentro Mentre Nelle partite Di metà stagione O inizio stagione Ogni tiro Che facevano gli altri Tiro Gol E quindi Questa è la differenza Ogni tanto La ruota Deve girare Ragazzi Vi saluto Vi auguro di nuovo Una buona serata Ci vediamo domani Col pagellone Forza Inter Sempre